Musica Hospitality Day 2019, sesta edizione, continuano le nostre interviste nelle aziende, nel padiglione delle aziende. Sono con il responsabile commerciale di Piva Group, il nostro Claudio Muraro. Benvenuto su Medio Talleradio. Grazie mille, buongiorno a tutti voi. Ricordiamo azienda leader nella costruzione di serramenti in alluminio, pannelli, serramenti in PVC, però andiamo nel dettaglio, parliamo della mission dell'azienda. Piva Group è un'azienda che nasce all'incirca 30 anni fa nella provincia di Verona, una partenza in un settore molto specifico che era la produzione di serramenti e pannelli nel mondo della prefabbricazione. Negli anni questo tipo di attività l'ha resa unica nel mercato italiano e poi man mano nel mercato internazionale, dando una varietà di scelta e un'unicità di prodotti che l'ha resa ad oggi praticamente quasi imprendibile dalla parte della concorrenza. Nel corso degli anni poi l'azienda per poter mantenere una certa solidità ha diversificato la sua produzione sia dal punto di vista come prodotti inserendo la divisione dei serramenti residenziali con l'introduzione dei serramenti in PVC, in alluminio taglio termico e poi nel tempo la diversificazione è stata fatta anche nei mercati con un approccio inizialmente commerciale che è stato fatto in Europa e fuori Europa che poi è stato consolidato negli ultimi anni con delle presenti produttive in Spagna, abbiamo uno stabilimento a Salamanca, abbiamo una piccola unità produttiva che è recentemente nata in Repubblica Ceca e da quattro anni c'è l'esperienza USA con uno stabilimento a St. Louis. Ecco, quindi perché Piva Group propone anche nel settore dell'hospitality e che cosa parlando di proposte? Allora, ovviamente la nostra specialità sono le finestre, le finestre possono avere varie collocazioni, nel mondo dell'hospitality diciamo il primo riferimento è il serramento che viene usato nell'albergo, nella struttura ricettiva però diciamo c'è tutto un altro mondo dell'hospitality che è anche quello del mondo del mobile home riferito ai villaggi vacanza, ai campeggi dove Piva Group in questo settore è assolutamente leader con una serie di soluzioni personalizzate che rendono anche efficiente e competitiva le aziende che usano i nostri prodotti Ecco, infatti avrei chiesto che tipo di soluzioni offre Piva Group, tra l'altro il nostro cameraman Alfredo ha ripreso questa finestra artistica che a me è piaciuta molto con un Van Gogh personalizzata e diciamo anche, no, questo è molto originale che si può personalizzare Certo, qui stiamo parlando di una provocazione Ci piacciono le provocazioni Nel senso, questo serramento rappresenta un po' l'idea che il cliente qualora avesse delle esigenze particolari con noi può studiare, può concepire dei prodotti, può personalizzarli diciamo in maniera estrema come potrebbe essere questa Il concetto passa, Piva Group è un'azienda che non vende il suo prodotto vende il prodotto che il cliente chiede con le proprie esigenze, le proprie funzionalità, le proprie estetiche Ecco, oggi è sempre comunque più esigente il cliente, no? Soprattutto quelli che chiedono una personalizzazione, il famoso made in Italy A proposito di made in Italy, ma voi operate anche a livello, diciamo, internazionale o comunque fuori dai confini italiani? Sì, certamente C'è tutta una divisione aziendale che ci stiamo occupando di andare a sondare dei mercati internazionali che a volte possono risultare consolidati Dubai la conoscono tutti però, diciamo, l'importante è fare sempre dello scouting in zone del mondo dove ancora la presenza dei competitor non è così massiccia in modo tale che se si arriva per primi si hanno anche altri benefici Piva Group, diciamo, quotidianamente cerca di sondare mercati come Sud America, l'Africa, l'Estremo Oriente con operazioni che nel tempo possono portare risultati ma qua si tratta sempre di una sfida commerciale che bisogna affrontare Ci vogliono anche le sfide E allora, grazie a Piva Group Grazie a voi E un saluto da parte di Piva Group a Mediotele Radio Un saluto a tutti voi, grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti